Stoppa le bottiglie di vetro e di alcolici e non solo, nelle zone di Voghera, da tempo sotto la lente del comune per problemi di sicurezza e decoro urbano, l'area di piazza San Bovo e della stazione ferroviaria. La nuova ordinanza è stata firmata dal sindaco nelle scorse ore e riprende in larga misura quella già attiva dal mese scorso, vietando in pratica la vendita da sporto e il consumo per strada dalle 19 alle 7. Così l'amministrazione prova a mettere un freno ai bivacchi notturni in zona che non di rado degenerano in comportamenti incivili. Queste aree, spiega il comune in una nota, negli ultimi mesi sono state troppo spesso contesto di forme di aggregazione non coerenti con le regole basilari del vivere civile, anche e soprattutto per l'abuso di alcolici e per le conseguenze negative sul decoro urbano. Tradotto gente ubriaca che fa i bisogni per strada, schiamazzi, bottiglie e relativi cocci abbandonati e ogni tanto qualche rissa. Più nel dettaglio, nelle zone in questione, è vietato vendere o anche regalare a terzi cibi e bevande sia alcoliche che non in contenitori di vetro in lattina. Il consumo di bevande alcoliche al di fuori di locali ed e or è invece sempre e comunque vietato dalle 19 alle 7 del mattino.